La tela di lana e mohair Sono filati in una sapiente mescola per dare origine a tinte unite, in cui le trame, nere come nella tradizione inglese, aggiungono un tocco di energica disinvoltura. Quando crei qualcosa è come un quadro o una statua. Tu quando le hai creato una giacca, la metti lì, te la guardi e tu sei felice, sei felice proprio di quello che hai fatto. Di solito vengono bene, a volte può anche capitare che non vengono bene, non c'è ancora capitato. Grazie a tutti.